questa roba ma vattene a farlo a gioca un euro e vai a giocare la macchina che è il nostro mondo si è tornato a casa non uscirà mai guarda che torna seduto su quella sedia reale se a me nur non mi porta al sushi vado a piallo io bello appena guarda un foglio della gioca perché a questo punto sembra che ti faccio qualcosa e tu sicuramente sei si fermano a parlare se si fermano da amici lo ma vaffanculo gran roulette 10 dai a numeri però numeri a testa numeri a testa a numeri si vince fra fidati io dico 26 io io sto sempre su 17 18 madu no ma dovremmo giocare a zone 30 25 34 17 25 34 17 non mi piace 18 e mettilo qualcuno ha toccato la videocamera gioca zone scammati ma scommati ma scommati ora ancora ancora vai 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 piccari io 18 poi sto per il nostro certo ok io 22 30 3 piazza sto guardando una foto di una roulette te l'hai la sotto te l'hai la sotto più basso a destra 17 34 25 la zona 27 quella del 18 vece 22 29 male ma da quanto sono grossi ma da 17 euro oddio 35 non mi sa io uno sul 18 metto sempre dai mettilo così 18 29 22 29 22 7 7 non è vero anche 17 Donald Trump sempre questi cazzo di invadono 25 ma secondo te pure questa è truccata boh non mi fa queste domande oh no stavo all'altro vai fai il gioco no 18 e un altro 22 22 22 e non la teniamo 29 vabbè guarda 29 esce con me o 33 o 35 esce il 17 adesso ragazzi ed è pure moltiplicato comunque per 300 mica contegoloso non nostro sino fidati sono 5 minuti avanti aaaaaaah stava per uscire il 22 vai 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 continuo hai visto il 22 cosa? non rigioca il 18 33 perché non ho idea magari il supporto di vita sarà ora la risposta di risposta ma al stesso tempo sei molto benvenuto a questo il tuo molto che giocato questa marcia supporto assistenti perché beh credo che sicuramente bisogna questa cosa cosa 25 live 25 io siamo porco dio guarda chi se esce suga mercazzo ho perso ah no no ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo johnny johnny fai 17 in aria 25 34 e basta so maybe abbiamo giocato una zona ma al stesso tempo si può essere diversi ahahahahahah ahahahahah ahahahah oddio che russi è quella questa è proprio la russia dai aria anzi 150 boh co 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 7 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 7 9 7 10 10 10 10 11 10 devi perché devi continuare a giocare che prima ma la grazie di soldi bello ok ma mai che uno no? finché che palle lazzo ma? rigiota no no ma non ho detto dei numeri 10 11 13 no sbagliato non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio 16 23 oh yeah don't forget aaaaaaah oh so bad 5 a bollet ma donna se c'è 17 vengolata a mazzo di pugni manca grazie a lotto guarda 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 che è combinato 25 lo giocavamo sempre sempre guarda guarda rigiocano subito subito 30 a 5 e 5 esce esattamente il 6 adesso fidati di me esce il 6 se non lo so se non lo senti game halal ragazzi sono se qualcuno qui è più oltre da 100 anni questo sarebbe bello se qualcuno qui è più oltre da 102 anni tu sei più oltre da il mio paese per 200 muovesse madonna guarda come si abbassa oh no guarda se qualcuno qui è 103 anni 18 22 ma 10 stava a giocare come gioca al bingo uno nella chat uno nella chat lo zero quanto paga lo zero no è uguale uguale a 22 giamaron 300 e ciccione sono tanti oddio 12 12 erano bocchi erano bocchini a me e a tutti 18 22 17 i 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 Dimmi questi, dimmeli. Allora, diciassette, diciassette, unico. Ma son troppo. Ventitré? Sì, e poi ventiquattuno. L'odio come se clicca su sta merda. Però devi rigiocarli sempre, se non mi sembra un senso. Ok, 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 cool. Zamp! Zamp, il 18! Se esce il 18... Mi arrabbio. Un bar i giocali sullo zero. Se vinci me li ridai. Ruschia. Ruschia ma Ruschia. Grazie cerchio per i due euro. 20 black gets the winning game on the run. Eh va, diciassette di giocare in 8 numeri così hai più il 50% di costruire mobili. 35 secondo me. Vabbè, grazie al cazzo. Se giochi tutti i numeri però perdi. Cioè ho giochi per prendere moltiplicatori, ma non ci sta. E allora gioca tutti i numeri per forza lo prendi. Lo volevo mettere il 36! Se esce d'azzo. Tutti i numeri. Oh, c***o. Oh! Bene. Predo, predo. Ha detto Marijuana. Ha detto Marijuana. Mi gioca! Uguale! 990 people with the win. Quindi praticamente una volta, non so... 10 euro a botta. Bisogna prendere moltiplicatori. Quello all'ultimo. 20 kids just petting the dogs. They were just like... So fluffy doggy! Ma ancora che parla del cane? Ancora con i cani, basta! 20 o qualcosa di persone around, just petting the dogs. Oh! So manco che ho giocato, quindi che c***o... Ah ok, c'hiamo un 17. Non esce mai, porco due, oh, non esce mai. Figlio di p***a. Ripeti! Così cattivo. So by the way, how, how it is for you ladies and gentlemen? When you see a Samoyed, do you, do you, do you want to go pet the dog as well? Or you're like... Nice, nice. Yeah. 968 people with the win in the round. Congratulations to all of you there. Congratulations! Well done. Congratulations! From... From little kids, you know? From the little kids, they want to pet the dog. Disho! And the older people are thinking like, oh, so hard to watch the dog it is, isn't it? 18, 20, 21, lightnings. E' una giura e' rossa. Mannaggia la madonna! Porco dio! I have a Samoyed and I have a French Bulldog. I have two dogs. I have two dogs. Tu! Che cazzo non è tutto che c'ho due cani. Porco dio non scavare la cabala. Metti sti cazzo di cinque uero sul quattordici. Basta con sto quattordici! Ti odio! Grazie per i cinque. Se esce il quattordici adesso però diventi il mio nemico. Schifo! Neanche uno che abbiamo messo. Maaammaa! Maaammaa! Ma nemmeno... Mai! Zero! Mezz'ora! Brut... Bruttu! Simo gioca 17.33 Sì proprio tutti 5 euro sul 16 32 Borra che sei fai? Dov'è il mio sushi porco dio Frate io adesso gli sbloccano Ho detto 32, porca madonna!